L'Aquila Calcio, dopo i quattro avvisi di garanzia di ieri, si difende attraverso una nota ufficiale. La società chiarisce che i fatti cui fa riferimento il citato provvenimento riguardano esclusivamente la società L'Aquila Calcio 1927 e i relativi debiti fiscali. È opportuno specificare che non si tratta di un'ipotesi di evasione fiscale, in quanto l'importo risulta essere stato tempestivamente dichiarato con la dichiarazione dei redditi relativa all'annualità, avendo successivamente l'Agenzia delle Entrate concesso alla società una rateizzazione trimestrale, rispetto alla quale il lieve ritardo nel pagamento di una sola rata è già stato sanato nelle scorse settimane e peraltro nei termini consentiti dalla legge e previsti dal piano di rientro. Infatti, come già in precedenza ha chiarito, si legge ancora nella nota, la regolarità fiscale è condizione per il rinnovo dell'affiliazione da parte della FIGC. Una volta che sarà terminata la rateizzazione con il pagamento dell'ultima rata, il sequestro sarà revocato ed il procedimento si estinguerà. Stando a quanto dichiarato dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale dell'Aquila, gli amministratori protempore finiti sotto indagine avrebbero coscientemente omesso il versamento dell'IVA per privilegiare il pagamento dei dipendenti e della gestione sportiva. La questione riguarda l'omesso pagamento dell'IVA che ha portato ad un sequestro di oltre 300.000 euro. A subire i sequestri per l'equivalente della somma dovuta al fisco, quattro persone all'epoca dei fatti nel Consiglio di Amministrazione del Sodalizio, che sono finite sotto inchiesta. Corrado Chiodi, attualmente presidente dell'Aquila Calcio, Massimo Mancini, vicepresidente, Fabio Aureli, attualmente direttore generale all'epoca dei fatti amministratore delegato, e Antonio Ranucci, attualmente amministratore unico.